Altri due gol al passivo, una delusione continua. Contro il Latina un autentico suicidio da 2-0 a 2-2 con un rigore a favore regalato. Pari che sa di sconfitta. La sosta evidentemente non ha aiutato. Il Pescara dei primi due mesi e mezzo di campionato non c'è più. Una mara, cruda ma reale costatazione. L'involuzione profonda e soprattutto di natura tecnico-tattica. L'aspetto psicologico è solo un effetto, non può essere mai la causa, altrimenti sarebbe come entrare nel porto delle nebbie. Bisogna prendere atto che la squadra non è più compatta e troppo aperta, come in occasione del pareggio del Latina, e continua a subire troppi gol. Ben 15 nelle ultime otto gare dalla trasferta di Torre del Greco, soltanto 8 nelle prime 13 partite. Un dato significativo nel contempo preoccupante, così come il magro bottino di appena 4 punti nelle ultime 7 sfide. L'ultimo clean sheet risale al match casalingo con la Messina 1-0 dello scorso 13 novembre. Rimettere a posto la fase difensiva diventa ora la priorità. C'è un terzo posto da proteggere e consolidare. La crescita nella proposta di gioco passa in secondo piano. Certamente il Pescara non sa gestire, lo ha confermato anche con la Latina, ma se vinci 2-0 e non hai più le energie per chiudere la partita, devi essere organizzato e solido e non lungo e largo, come è accaduto nella ripresa. Caso Lescano per l'attaccante italo-argentino, quarta panchina di fila. Resta il capo cannoniere della squadra con otto gol. L'addio sembra scontato. La Feral Pisanò ha fatto non una, ma due offerte che il Pescara ha rifiutato. Dal 19 dicembre, giorno dello sfogo di Lescano, nessun chiarimento o confronto con DS tecnico. Sarebbe stato auspicabile per tentare di ricucire, invece tra le parti nessun dialogo. Restiamo piuttosto meravigliati, a prescindere dagli errori nella comunicazione del calciatore. Gestione del caso sbagliata, soprattutto da parte del club.